Buongiorno a tutti, giovedì 4 gennaio. Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi. Chi siamo? Siamo Fabio. E Lorenzo, o Lorenzo e Fabio, non aspettavo che dicevi che tu eri Fabio. E stiamo facendo che cosa? Good morning Milano, come tutti i giorni, dalle 7 alle 9, qui su Cristal Radio Milano 96.2, ma non solo, anche in streaming, sull'app, sul sito, in Dapp Plus, dove volete. E se ci volete vedere, ci potete anche vedere sul profilo YouTube di Milano News. Ma quanto sei bravo, cioè veramente, non devo dire nulla. Ormai posso anche prendere e andarmene e lasciarti qui da solo. Oggi sono partito in quarta. Oggi sono partito in quarta, secondo me non arrivi alle 7 e 10. No, mamma, mamma, figura. Sono le 7 e 9 e 30. Ricordiamo il numero, 33178-535-55. Numero di WhatsApp a cui potete scriverci, mandarci messaggi, foto, buongiorni, buongiornissimi caffè, volendo, li accettiamo anche, dai, va bene. È presto, accettiamo tutto. Tutto, tutto, non facciamo distinzione. No, no, no. Noi siamo inclusivi. Siamo inclusivi, tanto che leggiamo anche i giornali, tanto che vi diamo tutte le notizie su Milano. La notizia della settimana, ormai, è quella dei tornelli. Cioè, ormai si parla solo di questi tornelli, anti-scavalcamento, ben 4, quanti sono? 6? 2? 4, 6, 2. Mi pare, mi pare, sì, ho 4 o 6, vabbè. Una cifra del genere, comunque. Fine anno sono uno 172. Ok, però, oh, ieri Pompamagna, sindaco ha messo delle foto, sono belli da vedere, da vedere in foto sono belli. Ci hanno le luci. Ci hanno le luci. Vabbè, io tutto, bravissimo, 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 bravissimo. Con la pesce di Martino, sesso e architettura. È la nostra canzone. Non era battiato? No. Un po', beh, però l'hanno sempre detto loro, ma il maestro è il maestro, nel senso. È la nostra canzone, sesso e architettura. Per quale ragione? Non voglio letteralmente saperlo. Almanacco del giorno, 4 gennaio, innanzitutto, auguri ancora alla nostra producer. Viola, Viola, tanti auguri, fa 19 anni, 21, 21, 21. È stato promesso di, cioè ci ha chiesto di inserirla nel manacco del giorno e quindi... Nel manacco del giorno. Metti su Wikipedia. Metti su Wikipedia. No, hai una pagina Wikipedia, Viola. La facciamo, la facciamo. Come si, si. La facciamo, la facciamo. Rispondi anche sì. La facciamo, la facciamo. Accade o... Comunque ho 21 anni, pensa. Ma tu ti ricordi quando avevi 21 anni? Sì. Quattro anni fa. Sì, ma quattro anni fa tuoi sono annebbiati, quindi... Sì, sì. Molto annebbiati da polenta. No, più che altro i miei 21 anni sono molto annebbiati. Quello lo dico tranquillamente, tanto che ha dato tutto in prescrizione. Io penso che, Viola, e a tutti i 21 anni in ascolto, pensate, alla vostra età io mi stavo sposando la prima volta. E sentitevi male. E' come quella situazione in cui scrivono sul gruppo delle superiori, ragazzi, ci vediamo, eccetera. Sì, sì, volentieri. Guardate che porto anche il mio bambino, tutti. Uh, sì, sì. Mi è successo. Piccolino e 15 anni. No, piccolino, però c'è, vai a fare una rimpatriata a 22 anni. Ho capito. Ti arriva una... Sei ragazzo padre, non sai dove mollarlo. No, no. Ti arriva una che ha già fatto un figlio, che magari appunto si è già comprata a casa, eccetera, eccetera. Ti metti, guardi la tua vita e dici, ma dove avevo sbagliato? Ho sbagliato tutto. Ma guarda, non lo so, allora ti dico, io a 21 anni appunto mi stavo per sposare, poi è finita come è finita, però ti dico, effettivamente, cioè lo rifarei tutto, nel senso sono quegli errori, barra non errori, barra cosa che fai, che ti servono per diventare quello che sei. E scusami, ma che bella personcina sono diventato. L'avevamo letto nell'oroscopo di Antonio Capitani, che leggo, non del cancro, ma proprio di Fabio Ranfi, avrebbe subito un'impennata nel mese di gennaio. Comunque, 4 gennaio, viene inaugurato nel 2010 il grattacielo più alto del mondo, a Dubai, Bush Khalifa. Bush Khalifa. Esattamente. Bru Califfo, il Bru Califfo. Califfo, grande Califfo, tra l'altro, eh, sarebbe, prima o poi... Ci facciamo un gattacielo dedicato a Khalifa. No, no, no. Non si può fare. No, magari ascoltiamo qualcosa dedicato a... Ah, ok. Prodotto da Khalifa. Poi, 57 anni fa, album di debutto dei Doors, 1967, pensavo addirittura prima, e scomparsi oggi, 9 anni fa. Siamo già quasi a 10 anni senza Pino Daniele. Uh, ciao Pino. Ricordo benissimo il momento in cui hanno annunciato alla televisione la morte di Pino Daniele, perché solamente quattro giorni prima aveva suonato al famoso Anno che verrà, ossia il programma che... Del Capodanno. Del Capodanno, direi uno, esatto. Come Annalisa quest'anno. Come Annalisa quest'anno. Se non la fermavano. Esatto, sì, ho visto anch'io quella roba lì. Dopo, perché... Io l'ho visto in diretta e ho detto, ma perché non la stanno fermando? A 11 secondi l'era ancora lì bella presa dal ritorneo. Diciamo, ma perché non la... Non so, questo è l'anno di Annalisa comunque, l'anno di Annalisa. Eccolo, prima era di Annalisa, pure questo è stato... Ebbè, ok, ha finito col botto e inizia col botto. Eh, intanto adesso ci colleghiamo con la redazione di Luce Verde che ci dà la situazione del traffico a Milano in diretta. Pink All Out of Fight Non è tanto questo, non c'ho l'altro. Io non saprei, ti dico tranquillamente. Molto molto bella, molto rilastante, però vi dovete svegliare. Non ti rilastare troppo. Vi dovete svegliare. Sveglia! 3, 3, 1, 7, 8, 5, 3, 5, 5, 5. Cosa c'è lì davanti? Ma dobbiamo segnalare che ieri pomeriggio un capannone nel milanese, in particolare Cascina Oldania, Cisliano, è stato oggetto di un incendio. Di un incendio perché circa 150 rotoballe di fieno, altamente infiammabili, hanno propagato un incendio. Sono dovuti a correre circa 20 vigili del fuoco. 8 mezzi di vigili del fuoco. Ecco c'è scritto una ventina nei vigili del fuoco. 20 automezzi non penso. Sono 20, non lo so. Ogni tanto vedi, i giornali scrivono cose. 20 vigili del fuoco. Ho visto le foto, i vigili del fuoco ci hanno mandato le foto. Impressionante. Veramente impressionante. Tu pensi a 150 balle di fieno. Poi prendono fuoco guardandole. Un saluto anche ai miei amici del comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano, che so che ogni tanto ci ascoltano. Un saluto. Un saluto. Al momento nessuna persona risulta ferita a causa del rogo e questa è la cosa più importante. Meno male. Poi, il giorno Milano, furti e vetri in frantumi a Milano, cosa succede? Che il 57% dei casi dell'intera Lombardia chiaramente è a Milano. Di furti dove? Dei furti dentro le macchine. Ah, in auto, scusami. Per prendere zagni, bici, soldi, eccetera. Prese di mira utilitarie come berline e in forza armata e la folle sfida fra i giovani su chi danneggia di più. Cercheremo di capire questo perché c'è l'ombra appunto della challenge tra ragazzi per quanto riguarda appunto spaccare il finestrino, e quindi causare innanzitutto un danno alla macchina che non è da sottovalutare. E poi anche il fatto di poter prendere qualcosa. Cioè, è un azzardo. Ladri è un azzardo perché molto probabilmente magari nello zaino che si è lasciato in macchina non c'è niente. Non c'è niente, ma è un rischio assurdo, inutile, completamente. Anche perché la gente ormai effettivamente lascia poche robe in auto, visto quello che succede. Quindi se lascio lo zaino in auto perché non c'entro niente. C'entro le mutande sporche della palestra, i calzini puzzolini. Cioè, complimenti. Ma che bel bottiglio che vi siete portati a casa. E poi soprattutto al massimo si mette nel bagagliaio in un momento di... Senza che ci sia nessuno in giro perché sai che comunque può dare sospetto. Però sostanzialmente il 57% dei casi dell'interno della Lombardia è a Milano. Il 57% dei furti in auto della Lombardia solo a Milano. Non siamo proprio il 57% della popolazione neanche delle auto. Sto pensando quello, nel senso... Comunque poi ci sono altri dati che vedremo. Che vedremo. Questo sempre per quanto riguarda la sicurezza percepita e reale della nostra città. Ma adesso ci sono i tornelli, tutto a posto. Perché se non ci concentriamo sulla vicenda Tornelli forse è anche un pelino meglio. Comunque. L'hai nominato prima, è nominato Califfo, no? Allora ho voluto trovare una canzone del Califfo, appunto di Califfano, rienterpretata qualche anno fa però dai Tiro Mancino. È un momento rilassante anche per voi, ma non rilassatevi troppo perché poi torniamo sempre qui su Crystal Radio. Un tempo piccolo. Francesca, Michelin, solite chiacchiere, tutto con la I. Vabbè, Michelin, chiacchiere, sì, sì, se ti riferivi a quello, sì. E mi sa che ogni volta che ci penso... Che strano. Come se tu fossi maisieri, capito? Non vuol dire niente. Ma scusami, cioè i nomi, i cognomi con la I esistono tranquillamente. Ma è come il nostro amico Andrea Cherchi. Sai quanti lo chiamano Andrea Cherchi, Andrea Chierchi? Ho sentito qualcuno chiamarlo Andrea Churchill. Andrea Churchill. Ho sentito chiamarlo. Sai chi era? Churchill. No, Andrea... Sai chi lo chiamava Andrea Churchill? Ah sì. Sai chi? Ciao Milano! Veramente? No, non è vero. Poi volevo citare Paul e salutarlo che penso sia di ritorno nel New York. Sì, sì. Ho visto anche io qualche video di Paul. Spiegazione in questo momento è completamente inutile. Lo tagliamo, facciamo il reel, lo mettiamo su Instagram, tagliamo i due e facciamo un po' di visualizzazioni, capito? Ah, insomma. Puoi rendere palese questa cosa? Viola segna il timing, ok? 7.34 minuti e 58 secondi. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5. Seconda mezz'ora insieme, non possiamo non aprirla citando per la prima volta nel 2024 Carlo Monguzzi. Buon anno anche a lei, Monguzzi. Ci ricorda che, no, in questo caso non è che lo citiamo per una polemica eccetera, scrive semplicemente ieri un post dicendo una bella cosa, puntini puntini puntini, perché? Perché ci ricorda che fino al 14 gennaio a Palazzo Marino ci sarà il battesimo di Cristo del Perugino e che appunto riporta il post della Repubblica Milano, posti esauriti alla Pinacoteca, mezz'ora di coda per il quadro Palazzo Marino, non solo i turisti ma anche tante famiglie. E' una bella cosa questa per Monguzzi e quindi lo citiamo in questa veste diciamo pacata. Calma, no, scherzo, vogliamo tanto bene, almeno io personalmente voglio bene a Carlo Monguzzi. Ha pacato e soprattutto non pacato. Ma ad abbracciarlo adesso, ma a Palazzo Marino è un abbraccio, non lo so io. No, lo so perché ieri ho avuto una testimonianza diretta di persone che sono andate alla Pinacoteca, cioè a Palazzo Marino ma c'era tanta tanta gente. E se chi c'era fuori a fare il tifo per tutta questa cosa, Monguzzi, contento, diceva bravi. Sì, torniamo sulla vicenda Tornelli perché si sta dividendo il popolo dell'amministrazione milanese. Vi leggo Fedrighini, consigliere ex Lista Sala, adesso gruppo misto, in cui dice tifoserie scatenate a Milano sui Tornelli antiscavalco, divenuto tema di scontro, a chiacchiere ovviamente, dice nel resto d'Europa, Berlino, Vienna, Copenhagen, Londra, Amsterdam, dove peraltro il biglietto è mediamente più caro, sono attive da anni misure efficace di prevenzione e repressione per chi viaggia senza pagare il biglietto. Per un motivo semplice, in queste città si investono ogni anno crescenti risorse economiche per potenziare la rete di trasporto pubblico, agevolando chi meno ha. In questo caso facciamo riferimento un po' anche a quello che ha detto ieri Marco Mazzei della Lista Sala, sul fatto che la soluzione appunto per loro sarebbe quella di agevolare chi riesce a pagare, chi può pagare. A Milano invece abbiamo chi nella giunta considera ridondante, tradotto da ridurre, una quota del trasporto pubblico di superficie, quindi in questo caso la polemica è principalmente sulla vicinale della 73, tra l'altro domani avremo un aggiornamento di Davide Borchi al telefono con noi sulla vicinale della 73, perché è stato approvato un'ordine del giorno, quindi spiegheremo meglio domani e comunque il post di Fedrighini finisce dicendo, però non mi sembra, no dice, per dirla come Flaiano la situazione è grave ma non è seria. Ok, tra quelli che ieri hanno fatto grande festa per i tornelli c'è il sindaco, il sindaco Sala, che su Instagram ha pubblicato una serie di stories con foto avvenieristiche di questi quattro tornelli, sono, alla fine, quattro tornelli della fermata M3 di San Donato, tutti con le luci colorate, lì ci sono stati progettati per impedire di entrare e uscire senza pagare il biglietto, sono dotati due porte scorrevoli, altre due metri e trenta, due metri e trenta di porte scorrevoli, un sensore rileva inoltre l'attraversamento in contemporanea di due persone, poi la situazione proseguirà con altre sei stazioni, tra cui Duomo sia M1 che M3, Cadorna sia M2, Centrale M3 e Rogoredo M3. Entro fino al 2024, come dicevi prima, saranno 172, però i varchi di nuova generazione che si aggiungono a quelli già in uso sulle linee M4 e M5, quindi in realtà sono identici a quelli dell'M4 e M5 più o meno, ma poi dice che questa iniziativa rafforza l'impegno di ATM nel contrasto all'evasione tariffaria, tra parentesi, scesa comunque al 2,6%. Allora adesso, io non voglio dire, ma tutto sto casino per un 2,6%? Allora io spero che sia scesa del 2,6%, cioè non al, che sia un errore di battitura, ma se fosse che veramente, poi non so come si fa a calcolare, solo il 2,6% di chi usa i mezzi non lo paga, boh, direi che tutto sto casino non lo capisco proprio, eh. Comunque, ciao Pino, Pino Daniele, io so pazzo, e non sei solo tu il pazzo qua, mi sa. Mi sa che sono in tante venirti dietro. Pino Daniele, io so pazzo, e qui di pazzi ce ne sono tanti, altro che... Ma io avesse tutto sto casino su questi tornelli mi fa ridere, comunque. Sì, no, è veramente... Ma anche in Regione ieri, perché anche Paladini, nella Regione si è un po' arrabbiato, diciamo, con i suoi di sinistra, dicendo ma io non capisco cosa si esulti qua con tutte queste questioni, cioè... Boh, tutti sono stati tirati in caso, però. Tutti quanti l'ho detto loro. A me per entità della questione ricorda l'incrocio di Corso Monforte, ossia nulla. Bravo, bravo. Aggiungo il fatto che però, se sei l'amministrazione milanese, e quando l'opposizione va all'attacco e non solo prende in causa la sicurezza, quattro nuovi tornelli del genere, 172 entro fine anno, diciamo che li puoi far valere dicendo ah, hai visto che sono attento alla sicurezza, hai visto che non entrano più le borseggiatrici, hai visto che noi abbiamo fatto qualcosa per la sicurezza, io la leggo un po' così. Ti leggo il post di Paladini, che ha fatto Paladini, ricordiamo, consigliere regionale di sinistra, cioè, diciamo, di Maiorino, Pattu Civico. Di Maiorino, Pattu Civico, Maiorino, ok. Dico di sinistra perché lui proprio cita la sinistra, no? Dice, leggo dei pipponi da sinistra indigeribili su quante cose si potevano fare anziché i tornelli contro i portoghesi della metro. Provare invece a pensare quante belle cose si possono fare se paghiamo tutti il biglietto o pare brutto, eh? Madò, che pesantezza. No, mi piace, quel finale non è male. Giovanile. Intanto, questa è una notizia veramente di riso, riso a mano, un po' la monicelli. Ah, ok. Perché? A Milano 10.000 verbali per le multe con conto corrente sbagliato. I sindacati dei vigili, errore incommentabile. Cosa riporta il Corriere della Sera a Milano? C'è una tuffa? C'è una tuffa sbagliato stampare? No, sono mille blocchetti sono stati consegnati agli agenti di polizia locale con sostanzialmente il numero di conto corrente per pagare la sanzione sbagliato. A riceverli sono stati gli agenti della polizia locale di Milano. Sembrerebbe che il comando si sia accorto per tempo dell'errore e nessun cittadino abbia pagato versando su un conto corrente sbagliato. Sì, ma pensi... Cioè, capisci che... Ricordiamo che sono venuti qua quei sindacati di polizia locale ed erano un po' incazzati, diciamo la verità. Un po' li capisco. Cioè, se devono lavorare in queste condizioni è veramente complicato. Sì. Infatti gli sindacati dicono come FP CGL ci auguriamo che ciò corrisponda al vero riguardo al fatto che si siano accorti per tempo dell'errore. Che non si sono usati. I calendari sbagliati ha aggiunto ci avevano fatto fare un sorriso amaro ma questa è un'altra questione perché evidentemente c'è anche il calendario gate. Questo lo apprendo in questo momento. Invece ci fa preoccupare perché stiamo parlando delle tasche dei cittadini milanesi in questo caso. I 10.000 verbali non sono stati mandati al macero ma è stata data dal comando a quanto ci risulta e dice FP CGL disposizione di correggere a penna. Siamo allibiti e ci chiediamo le correzioni a penna verranno accettate dagli uffici postali. Una cosa incommentabile ha concluso appunto FP CGL Milano. E va bene ci sta ha sbagliato a scrivere quell'1 o quel 3 così un errore di battitura peccato che l'hai fatto con le tasche dei cittadini e più di 1.000 blocchetti vanno andando 1.000 blocchetti sono niente è un costo irrisorio. Speriamo veramente che nessuno abbia pagato ecco che ne siano accorti per tempo. Ci sono tutti per Lorenzo Masieri direttamente da Calcutta e la sua due minuti oggi continuiamo a prendere il tavolo continuiamo a fare rumori ci scusiamo anche chi ci ascolta che abbiamo fatto saltare il cerume nelle orecchie è schifo infatti ma perché questa immagine 33178535555 Alberto buongiorno amici del mattino la sera prima hai fatto tardi al mattino la sveglia non ha suonato puntini puntini e faccia allibita che uva adesso sono curioso Alberto cosa hai combinato ieri sera dove sei andato ma chi se ne frega di quello sarà fatti di Alberto giustamente sono curioso io voglio sapere il nostro Alberto che cosa ha combinato ieri sera la cosa importante è che comunque se la sveglia al mattino non ha suonato e comunque ci scrivi alle 7.35 vuol dire che comunque non è una situazione così tanto grave speriamo per te Alberto speriamo per te si è vivo si è svegliato no no c'è capito Alberto l'importante per noi è che comunque per fortuna anche questa mattina Alberto si è svegliato dico se a me non sono alla sveglia io tiro delitto fino alle 11 ah ok no pensavo niente di grave Alberto non ha tirato delitto fino alle 11 ma alle 7.35 speriamo che sia arrivato comunque per tempo al lavoro non me ne ero accorto una cosa deve fare e la fattura è male semplicemente televisione ci risponde in live Alberto quindi non fare illazioni no no io speravo per Alberto cioè nel senso è andato a fare seratona che non so comunque questa notizia sicuramente sta divertirsi più di te ma quello ma anche un morto si diverte più di me ma è chiaro è vivo si è svegliato Alberto sta bene non è suonata la sveglia sta bene lo faccio anche perché lo diciamo per tutti i parenti di Alberto in collegamento sta bene non gli è suonata la sveglia tra l'altro anche a me è suonata secondo me non ti diri tanto quella analogica ma tanto io ne punto 4 è una sveglia analogica? si assolutamente per sicurezza nel punto 3 due telefoni è una analogica se vuoi la devi caricare clic 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 la sera prima analogica intendo digitale ma sveglia fisica e non dentro il telefono ho sbagliato te lo passo allora questa notizia secondo me è fondamentale perché a Milano si scende sotto le mille edicole cosa vuol dire? vuol dire che negli ultimi 4 anni a Milano sono state chiuse circa 129 edicole il 12% e nel territorio milanese si scende sotto la soglia appunto psicologica viene definita da Milano Today del numero pieno appunto di mille rivendite di giornali e riviste solo Assondrio e Bolzano aumentano sembra tantissimo è tantissimo però il dato è comunque in linea se non leggermente inferiore si legge con quello del del dato nazionale dell'intera nazione certo è che in 4 anni chiedono il 12% delle edicole milanesi comunque un po' di effetto lo fa per esempio in Bovisa l'edicola storica della piazza della Bovisa ha chiuso i battenti poco fa posso raccontare però una storia carina due storie anzi di resilienza delle edicole una via Novara angolo via San Giusto chiude l'edicola è stata riaperta come fiorista barra vendita di gadget tra parentesi super affollata ai giorni delle partite allo stadio altra cosa interessante Alan Brate ha riaperto l'edicola come spazio culturale ma poi ve ne parliamo meglio più avanti Amy Stewart knock on wood bussa sul legno ti piace? è fattuale 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 feltri direbbe fattuale io invece direi che per fortuna non abbiamo feltri collegato ma abbiamo invece con lei che tutte le settimane ci porta nei teatri milanesi ci porta a conoscere meglio anche cos'è il mondo del teatro sto parlando di Tamara Malleo buongiorno Tamara buongiorno alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Crystal Radio e di Guzmone in Milano buon anno anche perché è la prima puntata per me di quest'anno so che avete già iniziato ieri ma io arrivo così un po' in corso brava Tamara buon anno ci chiedevamo ieri fino a quando poi bisogna dire buon anno cioè tu la prima volta incontri qualcuno a nuovo anno cioè ti incontro al 15 di marzo di solito mi dimentico però diciamo che nelle versioni ufficiali io fino al 6 gennaio la Befana porta via tutte le feste porta via anche il Capodanno diciamo come potrei dire il contrario ormai va bene va bene comunque allora il teatro non va in vacanza anzi sappiamo benissimo che c'è tanta gente che ha scelto il teatro nei giorni di festa anzi magari in questi giorni che ancora c'è un po' di ferie uno un po' più rilassato riesce ad approfittarne per andare a vedere e ascoltare e ad assaporare che cosa Tamara allora anche in questo 2024 ricordiamoci che il teatro può essere una buonissima abitudine anzi deve diventare una buonissima abitudine allora ho scelto tre spettacoli anzi una diciamo così un'esperienza per ragazzi e ragazze molto piccole e piccoli perché vi parlo dell'associazione Fedora che è un'associazione che si occupa di spettacoli volti all'inclusività perché sono spettacoli che sono tradotti anche in lingua lisse quindi lingua dei per poter coinvolgere anche coloro che non hanno la possibilità di sentire e quindi in questo caso l'associazione Fedora ha creato un'esperienza performativa con le storie di Zoe che appunto è un'attività per bambini e bambine che si svolgerà da oggi fino a sabato 6 a Cascina Nascosta che è all'interno del Parco Sempione si è proprio nascosta effettivamente si è un po' nascosta però all'interno del Parco Sempione diciamo così dalla parte di del triennale si bravo dalla parte della triennale è possibile partecipare a questa esperienza e secondo me è un'esperienza interessante perché se i bambini e le bambine si rendono conto che un spettacolo può essere letto attraverso varie modalità e quindi coinvolgendo diciamo così linguaggi diversi con una appunto con una naturalezza permette sì che tutti gli spettacoli a quel punto possono essere accessibili senza dover per forza capire la differenza perché poi i bambini hanno molti meno filtri rispetto a noi l'associazione Fedora si impegna per questo appunto c'è questa esperienza che si può fare da oggi fino a sabato 6 ma in realtà si potrà fare fino a febbraio quindi ci saranno molte domeniche io vi consiglio di andare sul sito dell'associazione Fedora per poter vedere tutte le attività si svolgeranno anche in diverse parti di Milano perché l'appuntamento per esempio di domenica 14 si svolgerà a Cascina Cuccagna quindi in un'altra zona di Milano quindi io vi consiglio anche perché bambini e bambine che partecipano ad uno spettacolo peraltro c'è un'attrice molto brava che è Valeria Girelli e ha spettacoli dove la lingua LIS viene è una viene messa al pari della lingua parlata secondo me ha un valore importante e quindi ci sono anche poi tutto un coinvolgimento attraverso elementi visivi e contestuali quindi secondo me è un'esperienza da fare anche per i genitori perché entrano appunto in un linguaggio inclusivo invece adesso per la gioia di Lorenzo si fa di cibo esatto in un luogo in cui si può anche mangiare cioè torniamo ad Area Zelig Area Zelig Area Zelig in Viale Monza dove ci sono due appuntamenti molto interessanti perché secondo me si può iniziare l'anno ridendo e c'è un appuntamento il 6 gennaio si chiama Tips Pee con Corinna Grandi che è una attrice brillante è uno spettacolo per dimostrarvi che non vi dobbiamo dimostrare nulla e infatti lei guida una serie di donne bravissime che sono Francesca Pulisi Alice Redini Marianna Fogli Ambra Fenari e Giada Parisi sono tutte appunto attrici comiche che portano i loro monologhi stand up e appunto dove non vogliono dimostrare nulla perché le donne non devono dimostrare nulla cosa che invece solitamente con ironia in realtà nella nostra società un po' dobbiamo dimostrare quindi si può ridere si può sorridere il 6 gennaio all'area Zelig e sempre all'area Zelig torna un attore che a me piace molto perché porta avanti dei progetti molto interessanti cioè Loris Fabiani che noi abbiamo parlato con voi di Lunanzio che è un personaggio che lui sta portando in giro attraverso la stand up in molti locali milanesi e non solo e invece torna con un suo format originale che si chiama Cinema al Teatro la praticamente narrazione di un film in 20 minuti quindi non è un non ci sono delle scene tagliate proprio il film che viene in 20 minuti quindi tutto il film quando vai a casa di qualcuno dice ho visto un film te lo racconta un po' meglio in 20 minuti molto meglio molto meglio con il coinvolgimento del pubblico e in questo caso lui con Cinema al Teatro lezione di Pirlates quindi in questo caso è molto divertente lui attraversa appunto dei film a sorpresa che scoprirete andando ad Aria Zelig il 7 di gennaio e il 9 di gennaio e da seguire mi piace questa avrà un sacco di date a Milano con Lunanzio mi piace questa questa modalità l'ultima volta se non sbaglio Tamara ci avevi consigliato uno spettacolo che proponeva in due ore tutte le opere di Shakespeare in questo caso 20 minuti 20 minuti un po' di film è meno ambizioso diciamo no però lui in uno spettacolo propone più film due film quindi siamo comunque in media di diciamo così come orario siamo un po' in media però in questo caso c'è un coinvolgimento diretto del pubblico dove appunto il pubblico conoscendo il film può in qualche modo partecipare e relazionarsi con Loris Fabiani che è bravissimo a creare una sintonia con chi si presta a questo gioco perché poi alla fine il teatro è anche giocare giocare con se stessi giocare con le parole in qualche modo interessante questo è molto bello ricordiamo dove Arezedi da quando a quando Loris Fabiani sarà il 7 di gennaio il 9 di gennaio solo il 7 e il 9 non dà l'ara il 7 e il 9 sì sì sono due strato secche perfetto e io mi ha incolusito tanto questa cosa mi ha incolusito mi ha incolusito mi ha incolusito Loris Fabiani porta dei format sempre molto interessanti peraltro originali portiamolo anche qua Viola Viola ecco si chiama sempre Loris Fabiani segna ok ce lo portiamo qua un giorno così intercede per noi Tamara diciamo ci ha dato il numero Tamara facciamo così va bene Tami io ti ringrazio tanto come sempre ricordaci dove possiamo seguirti anche quando non sei qui con noi grazie Fabio sei sempre gentilissimo allora potete seguire Teatro Mania il venerdì dalle 16 e 40 alle 18 su Milanao canale 191 del Digitale e in replica andiamo il lunedì alle 23.30 su Antenna 3 canale 11 del Digitale Terrestre sulla Lombardia hai capito abbiamo due appuntamenti per voi così oltre che sentirla su questa radio oltre che vederla su Milano News la potete vedere nello splendore del Technicolor anche sul Tena 3 e Milanao quindi insomma potete sintonizzare i registratori queste cose quella era una frase ormai superata eh sì ormai superata quindi mettetevi una sveglia sull'iPhone ecco forse è più attuale questa Tamara grazie mille davvero per i tuoi consigli grazie mille per le tue per le tue indicazioni tu sei il nostro GPS della cultura beh adesso dalla prossima settimana ci saranno molti spettacoli interessanti temi molto diversi teatri molto diversi sto raccogliendo molte informazioni perché il teatro diventerà una vostra abitudine come diventa una nostra buona abitudine quindi ci vediamo la prossima settimana grazie mille grazie mille a te Tamara buona abitudine a tutti allora GPS della cultura perché a Good Morning Milano normalmente manca abbondante lei la porta bene abbiamo lasciato a lei questo onere per quello dai grazie mille Tamara grazie Tamara back that up to the beat è successo di tutto c'è stato un problema mi hanno detto dalla redazione no come si dice dalla centrale centrale operativa di Cristian Radio c'è stato un problema quando ho perdito la canzone però mi è presto andato a tutto posto quindi vi chiediamo scusa se qualcosa è successo però questo è la dimostrazione che qui ci si lavora si dà da fare e che siamo in diretta e che siamo in diretta 8 e 22 di oggi giovedì 4 gennaio 2023 ah no scusate 24 siamo in diretta siamo in diretta ieri ho scritto 24 per la prima volta ma ho fatto un po' strano perché hai fatto un tema hai fatto un tema a scuola è vero quando si faceva il tema a scuola si scriveva cioè i primi mesi i primi mesi oddio le prime settimane di gennaio erano devastanti perché dovevi sempre cancellare il 2023 che belli i tempi dei temi io ero molto vabbè insomma ero non so non so scrivere a mano praticamente come non so scrivere a mano no scrivo malissimo scrivo malissimo faccio una fatica la calligrafia per questo faccio una fatica fisica ormai sono figlio dei miei tempi c'è poco da fare quando si chiudeva il foglio protocollo perché se scrivevi male comunque di fianco la professoressa cercava di decifrare di scrivere cose molto bello sono molto nostalgico non ho mai capito quella cosa perché si scriveva su mezzo foglio perché di fianco lasciava spazio ai commenti per le correzioni esatto esatto ma io non sbagliavo mai quindi non avevo bisogno di correzioni tra l'altro se non sbaglio questo sei sempre fatto tranne che alla maturità che per qualche ragione abbiamo scritto a foglio intero non mi ricordo però tanto non abbiamo mai rivisti e forse per cui non vengono perché appunto non c'è la correzione da darti indietro forse per quello belli belli tempi della maturità forse lo dico solo io però chi se ne frega no no so che molti lo dicono dicono che è una delle cose che più fa ansia però fa anche cioè è una cosa bella così dicono sì è come il fatto che tutti sognino il fatto di di dover rifare la maturità a me sembra veramente strana come cosa sarà che me la sono vissuta bene non lo so dipende da caso a caso ovviamente però ti dico la verità ho vissuto di peggio e sicuramente vivrò di peggio ovviamente non è che hai parlato così a caso no di maturità perché il prossimo pezzo è uno di quei pezzi che hanno a che fare proprio con quel al momento lì credo a meno che parlasse di altri tipi di esami non so del sangue della prostata non lo so no 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 pensa se notte prima di esami parlasse della notte che Lorenzo Masiere passa prima di fare l'esame alla prostata ad esempio pensarebbe tutto si prepara ti prepari mi raccomando venga a digiuno così racconta per l'esame alla prostata devi andare a digiuno non lo so non lo so comunque no stiamo parlando del grandissimo Antonello Venditti e quanto fanno ridere i meme di Antonello Venditti il giorno prima della notte della notte prima degli esami che è lì che è tipo tutto sorridente con scritto quando ti arrivano le royalties e allora noi invece così fuori tempo massimo lo mandiamo così in onda il 4 gennaio Antonello Venditti notte prima degli esami certe notti Liga V che segue notte prima degli esami di Antonello Venditti abbiamo dato prima della pausa quindi momento notturno alle 8 e 35 del mattino esatto quindi potete tranquillamente chiudere gli occhi girare la coperta girare dall'altra parte e mandare tutti no chi ci sente già in macchina che sta andando verso il lavoro verso l'università no l'università in questo momento sono chiuso sono chiuso al 331 78 53555 Erika ci scrive grazie a nome di tutti i nostalgici del periodo della scuola in concomitanza con la messa in onda di notte prima degli esami nostalgici della scuola che qui sono divise metà tu sei uno di quelli 50% tu sei uno di quelli io bruciate tutto no no zero se c'è un periodo della mia vita in cui non tornerai mai avevo quello della scuola qualsiasi scuola no racconto tipo per esempio per gli anni dell'università sarà che sono più recenti eccetera ma sicuramente non le ricorderò con nessun tipo con alcun tipo di 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 nostalgia perché vabbè un po' il covid un po' non me la sono vissuta ma questo è un altro discorso mentre i tuoi amici non sono amici dell'università quindi no zero uno ho conosciuto l'università pensavo fosse no gli altri sono tutti dell'alberghiero o altre o anche prima ecco perché si mangia sempre bene da voi sempre nella nostra compagnia si mangia a oltranza e benissimo piccolo aneddoto sulla nostalgia della scuola questo non l'ho mai detto io e altri due miei amici tipo sei mesi dopo la fine delle superiori siamo tornati in macchina davanti all'istituto ipseo a carloporta abbiamo parcheggiato ci siamo piazzati là davanti abbiamo guardato la scuola abbiamo chiacchierato un po' dei fatti nostri e abbiamo ricordato le cose divertenti successe dentro siamo molto nostalgici probabilmente viviamo dentro un film di Paolo Virzi stavo dicendo tutto questo con un muccino dietro la camera che vi faceva un'inquadratura infatti però molto bello me lo ricordo che bel momento torniamo alle cose che magari interessano anche ad altre persone il comune di Milano fa sapere che ha approvato interventi per 7 milioni e mezzo di euro che si aggiungono ad altri già stanziati per il superamento delle barriere architettoniche nelle metropolitane sostanzialmente installazione dell'ascensore alla stazione di Cimiano sulla M2 installazione di due ascensori alla stazione di Gioia sempre sulla M2 installazione di tre ascensori tutti a salire nella stazione di Wagner M1 sarai contento visto che tu hai fatto coming out dicendo che uso l'ascensore in mezzo la mia testa è anche sulla linea M2 a Garivaldi sarebbe ora è sempre il comune di Milano in un posto fa sapere che hai indetto dei bandi quindi se volete lavorare al comune di Milano mandate la candidatura la facciamo anche da ufficio tra parenti l'ho scoperto nei prossimi giorni magari approfondiamo la notizia meglio che adesso se vuoi lavorare nella pubblica amministrazione è nata un'app c'è un'app che gestirà tutte le varie possibilità faccio un'università perciò a te porca miseria devi fare un'università anche per quello ormai ormai devi fare un'università anche e soprattutto mi viene a dire per quello per fortuna lavorare nella pubblica amministrazione è uno di quei mestieri che io non farei mai è complicato secondo me dà anche delle soddisfazioni adesso è servizio dello Stato può dare anche delle grandi soddisfazioni se riesci a fare delle cose che magari sembrano difficili però poi si riescono a fare io quando ho parlato con gli uffici di esempio municipali così erano molto presi bene sicuramente Massimo Pericolo usa presi bene sì Massimo Pericolo le cose cambiano Massimo Pericolo che piace tanto alla nostra produzione Viola è venuta è corsa in studio per vedere la canzone per ascoltarla quindi va bene salutiamo Viola come dà l'inizio appunto sì di solito lei sta fuori dallo studio invece in questo caso è corsa dentro lo studio Regione Lombardia ci tiene a ricordarci con un post che la Magia del Natale prosegue no la Magia delle Feste scusate prosegue al Palazzo Lombardia fino al 7 gennaio viene a trovarci in piazza della città Lombardia in piazza città di Lombardia per scoprire le iniziative come pista da patinaggio mostra pop art arte nel cuore pista di snowboard per bambini questa mi mancava e laboratorio e giochi di magia per i più piccoli nei Christmas igloo quindi fantastico me lo ricordiamo sembri post quelli importanti esatto che va bene ci sta però a me fa ridere che sia la Regione Lombardia ricordatelo fai l'ente del turismo alla Lombardia crei la proloco della Lombardia e lo fa lei a me fa ridere quello che l'istituzione politica che poi diventa amministrativa che poi diventa promozione sociale promozione turistica fa ridere quello ma sì ma siamo tutti più buoni buttiamola in cacciola così no tornando alle cose serie la polizia locale di Milano è pronta a scioperare infatti ha indetto uno sciopero per il 14 gennaio e il blocco degli straordinari dal 12 al 16 si legge in un comunicato congiunto di FPCGL FPCISLE UIL FRP eccetera eccetera questa amministrazione comunale insieme al comando invece di valorizzare il corpo di polizia locale ne vuole stravolgere l'organizzazione del lavoro peggiorando di conseguenza la vita delle lavoratrici e dei lavoratori fra le promesse fatte dopo la morte di Savarino perché infatti ci sarà anche una protesta simbolica ossia faranno un passo indietro quando prenderà parola l'amministrazione milanese nel corso della commemorazione in ricordo di Nicolo Savarino che era un membro della polizia locale che è stato ucciso nel 2012 travolto in bicicletta ecco tra le promesse fatte dopo la morte di Savarino i sindacati segnalano quella di evitare controlli a piedi o in bicicletta ne abbiamo parlato anche con i nostri ospiti qualche settimana fa per questo appunto i lavoratori della polizia locale che parteciperanno come ogni anno alla commemorazione del nostro collega hanno annunciato in segno di protesta che effettueranno un passo indietro quando prenderà la parola un rappresentante dell'amministrazione comunale insomma tensione tra la polizia locale e l'amministrazione comunale tensione che ciclicamente ritorna comunque sempre le amministrazioni sono sempre state insomma è uno di quei temi difficili quando lo tocchi quando lo vuoi gestire serve sempre lo scontro ricordiamo che il sindacato che è stato qui il Sulpla ad esempio che ha ricordato invece che col famoso scontro con il sindaco Albertini fu aspro durissimo ma poi alla fine ci arrivò anzi a volersi bene quasi in un certo senso comunque i due compagini l'amministrazione da una parte e i vigili ormai dall'altra riuscirono poi a tornare una quadra e a lavorare insieme per i restanti anni di mandato del sindaco anzi loro dicono ancora siamo ancora fermi là però sono passati quasi 30 anni anzi sono passati 30 anni bisogna forse incominciare a rivedere le cose da un po' di tempo siamo in ritardo per questo quindi lo sciopero il 16 hai detto? il 14 il 14 il 14 gennaio sciopero quindi dei vigili urbani della polizia locale di Milano andiamo avanti con la musica Blood Vinyl Altalene Altalene alle 8 e 50 minuti qui su Christian Radio quando ci avviciniamo alla fine della puntata di oggi giovedì 4 gennaio di Good Morning Milano assolutamente e continuando con la rassegna stampa riportiamo il fatto che su Telegram c'è una chat chiamata Blacklist che sostanzialmente è ideata dai tassisti per difendersi da chi sale in macchina senza avere il denaro per pagare la corsa ed è usata anche per comunicare in tempo reale appunto le caratteristiche fisiche dei truffatori per evitare appunto di tirarli su si chiama Blacklist è interessante il logo della chat hai visto? la tua foto no perché c'è la tua foto? io lo dico chiaramente non ho mai preso un taxi nella mia vita anzi l'ho preso solamente una volta perché Bruce Spring è andato troppo lungo a San Siro e con i miei non so per quale ragione abbiamo preso il taxi perché è andato veramente lungo non li prendo quasi mai ma poco prima di Natale in tre giorni ho preso quattro taxi è stata una roba con ospiti di rilievo con ospiti anche di rilievo sì tra cui Elena Inversetti no tra cui Cochi Ponzoni doveva fare la trasmissione televisiva il taxi il taxi ma sai che c'era no c'era Milano-Roma il taxi al cui mi sa no forse era arrivato doveva fare un viaggio il taxi con qualcuno mi ricordo la puntata Renato Abbat-Antuono non mi pare fosse Cochi Abbat-Antuono più Renato Abbat-Antuono è molto diverso Abbat-Antuono se lo metti in macchina ce n'è anche una con Ugo Conti che fa spaccare dalle rigate passato apposta dal giambellino a vedere dove abitava mi ricordo questa cosa qua Condino a Brescia quella Condino a Brescia quella Condino a Brescia passa proprio da lì bellissimo vabbè forse non era Ugo Conti allora a me sono molto simili hanno uno al pizzetto uno al pizzetto l'altro non al pizzetto uno è uguale da uno è premio Oscar l'altro no è vero se ci pensi la Brescia non ha mai vinto l'Oscar no infatti nulla questa era tra le ultime notizie di giornata diamo proprio l'ultimissima al volo prima di chiudere è possibile che in futuro venga costruito su un'area agricola nel milanese un mega data center stiamo parlando a Corsico però potrebbe essere uno di quei titoloni poi effettivamente non si fa nulla eccetera chiaramente Legambiente si oppone al progetto e capiremo poi come si lo seguiamo nei prossimi giorni lo seguiamo eh sì 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 Grazie per la visione!